Salve, buongiorno, mi chiamo Riccardo Roda, sono il coordinatore del convegno dal visibile all'invisibile, il tradizionale appuntamento del cuore mostra del SAIE che come anno si occupa di innovazione. Quest'anno parliamo di un tema molto interessante, della forte evoluzione tecnologica che ha determinato un cambiamento molto radicale nel modo di progettare e costruire. Fino a qualche decennio fa, e al SAIE l'abbiamo mostrato ampiamente, l'innovazione tecnologica era esibita, mostrata, a volte evocata più che realizzata. Oggi abbiamo a disposizione tantissime tecnologie brevetti e paradossalmente i progetti sono diventati molto più cool, molto più freddi, molto più lineari. La tecnologia è quasi scomparsa e viene inglobata in strategie progettuali molto più complesse, dove al cui centro non vi è solamente la prestazione o il linguaggio dell'architettura, ma al contrario il complessissimo rapporto tra uomo costruito e società.